ciao e benvenuto in un nuovo video allora oggi idea regalo per natale da regalare da regalarsi di douglas allora questa mi era stata inviata sinceramente in il periodo prima delle calendari dell'avvento ma ho visto che ancora in vendita e le ho detto perché questa può essere un'ottima idea regalo da farsi per noi oppure anche da regalare perché no e ve la mostro allora questa è la beauty and city di douglas è una box fatta proprio così deliziosa a mio avviso e prezzo 49 euro però ho visto adesso che è scontata a 35 quindi nel caso guardate anche con gli sconti che ci possono essere è carina anche come da regalo per un cumpleanno ad esempio perché no ma io direi di andarla ad aprire così vediamo cosa contiene e vediamo se ne vale la pena eccola qua allora eccola perché c'è scritto da aprire in caso di rientro e perché no allora allarme sveglia all'alba mai più capelli spenti make up al volo aperitivo all'improvviso missione idratazione pelle di seta vediamo un po che cosa può contenere allora che trovo carina come idea regaloide come idea anche per noi allora allarme sveglia all'alba che è la prima confezioncina anche molto simpatica e anche il numero uno quindi non ci possiamo sbagliare vediamo cosa contiene all'interno abbiamo ok e già partiamo bene perché ed è kiel's calendula deep cleanser forming face wash detergente per il viso della kiel's alla calendula che oltretutto mi piace perché deterge bene ma non secca la pelle questo è un 30 ml a mio avviso già questo super consigliato poi andiamo avanti e abbiamo revolution lip sleeping mask maschera da notte per le labbra 10 grammi per risvegliarsi con le labbra morbide vediamo ok abbastanza collosa buono il profumo una bella maschera per avere le labbra più morbide idratate a risveglio può sempre essere utile si chiama bombom ed è un 10 grammi e della formato full site metto lì perché ho tutti i prodotti beauty ultimo prodotto e abbiamo della hey hey organic the clean beauty e mask una maschera per i contornocchi natto con natural yellow bright e per illuminare ok è un 15 ml si chiama hey organic proprio ed è una maschera da utilizzare sul contornocchi per il luminare quindi perché no vediamo è chiuso la lascio chiusa perché magari più ed è per defaticante per il periodo non invernale ecco non lo so dovrei provarla perché non è che vi dico sciocchezze prima la provo e poi vi dico andiamo avanti sarà questa due vediamo sì la due è mai più capelli spenti quindi già da questo possiamo immaginare che sia un prodotto una box per i capelli troviamo e questi sono immancabili sono tre ok eccoli qua della hb italia lo chiamano ferma code sono degli elasticini classici con tre forme diverse abbiamo questa leopardata quella blu classica e quella azzurra carini vanno bene anche ad esempio tenere magari non incastrarne gli anelli così è attenzione agli anelli però da tenere ad esempio il corso e al momento farvi la coda non è di quelli con la parte dente arrotolata è un elastico classico ma mi sembra che fermi bene i capelli poi abbiamo la oh why oh we leave in conditioner quindi è un balsamo senza risciacquo da 25 ml ok con la formula più a spray perfetto per rimettere un attimo in pieghe i capelli magari dopo l'uso e poi della l'oreal vitamino color shampoo professionale per i capelli colorati da 100 ml quindi questo è proprio un bel trattamento possiamo usare lo shampoo il balsamo faccio una bella coda e siamo pronte mi piace l'idea mi piace mi piace quest'idea delle smart e veloce sarà questa la tre vediamo si make up al volo per una conference per una video chiamata vediamo cosa può contenere immagino make up partiamo così ok che cos'è lip and cheek gel blush della soda l'ho sentito parlare ma non ho mai provato niente di questo marchio la confezione è questa ma adesso la apriamo quindi penso che sia un burro colorato per labbra e guance carini c'è anche gli adesivini dentro ecco il fatto che abbia adesivini e ha già una marcia in più solo per questo ha proprio fatto così il colore è finger cross ed ed è fatto a è appena 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 colorato strana questa formula perché è un non lo dice non è in crema sembra quasi in gel particolare ah c'è scritto cheek gel brush è molto particolare mi piace scusatemi ma tengo da parte gli adesivini perché credo davvero tanto poi andiamo così questo make it big di morphe in mascara mascara volumizzante andiamo ad aprirlo bello e oltretutto è un full size eccolo qua mi piace mi piace anche il fatto che sia un full size il mascara è sempre utile questo lo proverò dice di essere volumizzante 7,5 grammi proviamo e vi farò sapere assolutamente poi abbiamo ok un eyeliner di catrice 24 ore long lasting extra black di quelli immagino con il pennellino a ok fatto così e quelli a pennellino proprio allora l'extra black devo dirvelo proprio è nero sì ma dipende perché se vogliamo una linea sottile sottile non è affatto nero se invece andiamo a intensificare diventa nero non mi fa impazzire poi abbiamo dell'elfi invece questo che è un duo viso ok via questo questo è bit size face duo duo viso miniature ok adesso lo apriamo questo perché lo svociamo ecco qua era l'ultimo prodotto e abbiamo immagino così il bronzer non è il bronzer ok blush e qua sarà l'illuminante blush bellino questo è il blush e questo è l'illuminante ma che carino proprio per un make up al volo aspetta che spoggio piano questo però mi piace mi piace perché è una cosa simpatica andiamo avanti aperitivo all'improvviso è la quattro fatta così e abbiamo tre prodotti ora facciamo pavles of cos'è uh belline una sciocchezza se volete però sono delle mini lime per unghie immagino sì col disegno del gattino scusa ho messo già il gattino dico ok adesso andiamo ad aprirle ecco esatto sono delle mini lime per unghie sono quattro uno due tre quattro cinque sei fatte così e sono da borsetta ne spezzate una e la si può si può usare per una sistemazione delle unghie l'ultimo minuto oppure siete fuori casa se ne spezza una questo è fantastico questo mi piace un sacco anche solo per il gattino poi abbiamo oh mi piace astra questo è ipnotiz è una tinta per le labbra bella pigmentata uniforme e non secca il colore è gloss tip girl che oltretutto ho già perché mi piace un sacco ho fatto così ve la metto qui e poi le faccio bella molto molto bella la tengo qui perché dopo me la applico e quindi questa è molto bella e questo è essence daily dose of love una palette di ombretti fatta così anche con le astichino la 6,3 grammi che carina aspettate che tolgo la plastica così la vedete non l'avevo vista questa è tutta molto molto shimmer ed è qualche opaco ma è piccina e carina aspettate che mi pulisco la mano così facciamo un po' di swatch ok eccoci tornate così la possiamo sbocciare un po' non c'è lo specchio ma andiamo a vedere i colori che abbiamo un burro chiaro uno shimmerino champagne e uno shimmer che si sentono un po' i glitter però è bello luminoso guardate questo bello 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 andiamo avanti un marrone opaco un rosso shimmer ed un altro rosino sotto per adesso mi sta piacendo molto opaco un mattone uno shimmerino ok e l'ultimo è un marrone opaco che vi dico già essere polveroso ok allora questi sono i colori gli shimmer sono fantastici gli opachi si vede un pochino qui sono più polverosi però una palettina che dove ho messo la mia salvietta da pulire era caduta per essere dei colori di una palettina piccolina che è in cartone quindi si può anche portare in borsa ci sta anche perché guardate sono belli i shimmer sono davvero belli molto molto belli pulisco perché andiamo avanti abbiamo ancora due caselle di cui la missione idratazione credo che sia questa come idea regala si sta rivelando molto carina e qui abbiamo della inu wet you tan me beauty visage idratante face balm non capisco è un 50 ml quindi un full size crema idratante per viso e corpo con certificazioni bio interessante quindi anche per il corpo viso e corpo ci sta e solo un altro prodotto solo due l'ancome advantage genifique questo è un 7 ml ok è un concentrato attivatore di giovinezza mi piace mi piace molto questo e l'avevo già anche provato ed è mi trovo bene è un po' un campioncino sinceramente avrei preferito di meglio però ci sta a questo punto io sono aspettata curiosa di aprire questa crema per capire quanto è idratante mi sembra molto ma ci serve una crema per le mani attualmente e quindi oh no è corposa ma ha un profumo neutro e invece mi piace molto perfetta per le mani e a questo punto ci resta solo non è che sto buttando c'è una scatola lì non è che sto buttando per terra a questo punto ci resta solamente l'ultima casellina che è pelle di seta andiamo a vedere questa la vedo ricca allora partiamo con clarence body firming creme lift ferme tè quindi rastodante 30 ml ma è un corpo o viso perché body per il corpo lifting per il corpo 30 ml ma parliamo di clarence quindi ci sta ok vedo una cosa che abbiamo trovato in tantissimi canali dell'avvento quindi vai non me ne parlo più ma che io amo sol de janeiro brasilian boom boom cream la amo e la adoro mi piace se siete venuti su questo canale per caso questa crema mi piace tantissimo mi piace tantissimo la crema la texture e profumazione al punto che ho comprato ho comprato il profumo per corpo e capelli di questa linea che io adoro e amo siamo arrivati all'ultimo prodotto ma mi sembra che sia un buon prodotto se lo riesco a riunire ok e vi mostro cos'è è della colistar talasso scrub rastodante sali sfoglianti detossinanti con olio essenziale e strato di ciliegia ha la parte in sale e la parte in olio che si hanno un pochino divise ma eccola qua la confezione è un 70 grammi che ovviamente sarà chiusa esatto mi piace questo non l'ho provato quindi da provare mi piace tantissimo e l'appoggio delicatamente e siamo arrivati alla fine allora fatemi sapere voi che cosa ne pensate perché per me questa box è deliziosa alcuni prodotti un po' di più altri un po' di meno ok però mi piace molto anche per fare un idea regalo ma anche per un compleanno oppure da regalarsi cavolo dietro c'è lo spoiler per fortuna che non l'abbiamo visto e niente a questo punto fatemi sapere voi cosa ne pensate se l'acquisterete se l'avete già acquistata ditemi tutto io spero di stata utile e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao